Let's go, bitches, benvenuti a questo nuovo video in cui voglio fare una recensione del bar controller specialmente di quelli che sono i reflex switch, sto guardando il joystick, ecco perché sto guardando per terra e niente, beh, voglio spiegarvi perché è utile comunque un controller del genere cosa di buono, cosa può dare di vantaggio, cosa magari può non dare di vantaggio perché esistono pro e contro e voglio essere sincero con voi. Io stesso utilizzo un bar controller quando gioco questo perché mi trovo bene ad avere, anche se gioco in claw, ad usare il dito medio per saltare con il paddle sinistro per chi non sapesse cosa sono i paddle, sono delle palette che si trovano sotto al joystick che sono configurabili di solito hanno il tasto X e cerchio o A e B, A e X sempre a sinistra e B e cerchio sempre a destra allora, iniziamo subito con la recensione, quindi ora cambierò l'inquadratura della cam io vi lascio all'inquadratura della cam e al prossimo video, let's go Let's go, bitches, questo è il mio controller, come vedete ha proprio i miei colori, anche il cavo perfino con i miei colori come vedete, cosa ha di particolare questo joystick, voi direte vabbè è solamente colorato no, per prima cosa la vernice che utilizza questo joystick è una tipologia di vernice che praticamente consente di non farci volare le mani viene chiamata soft touch e praticamente serve proprio per avere più presa sul joystick specialmente dopo che giocate tanto tempo o comunque in ambienti dove vi sudano le mani in questo caso vi servirà per tenere di più la presa oltre a questo il sotto è quello di un normale joystick bianco perché come sapete già la PS4 ha una sorta di diciamo di ruvidità qui sopra, sembrano porosi i loro joystick e quindi già sono ottimi così per diciamo non poter far scivolare le mani esistono anche dei grip ulteriori, cioè delle cose che si possono aggiungere sul joystick da mettere sotto o sopra sul pad per diciamo aumentare l'aderenza delle mani al joystick eccole qui, le ho montate proprio in questo caso come potete vedere queste qui sono i grip ulteriori sono praticamente delle, diciamo si infilano praticamente all'interno del joystick e si sfilano quindi non richiede niente di che se non vi piacciono o comunque non vi va di usarle li potete tranquillamente rimuovere oltre a questo è venuto un momento di parlare di una delle cose più importanti del joystick che in questo caso sono gli analogici che secondo me sono una delle cose comunque fondamentali su un joystick specialmente perché il feeling principale che uno deve avere è quello con gli analogici in questo caso il vantaggio di avere un bar controller è quello di possedere i bc sticks cosa sono i bc sticks? bene sono diciamo gli analogici intercambiabili che voi potrete cambiare se magari uno viene troppo usurato perché lo usate sempre se magari volete provare un altro tipologia di analogico se magari volete provare ad usare un altro analogico in cui vi trovate meglio uno di qualche console vecchia io per esempio sto usando quelli della 360 come potete vedere qua che sono comodissime e mi trovo benissimo ora vi farò vedere magari a voi piace giocare con quelli della PS3 lo staccate basta che premete in alto come vedete ci sta proprio una sorta di incastro all'interno tac prendete l'altro analogico lo schiacciate e via il gioco è fatto ho messo quello della PS3 ma la stessa cosa lo possiamo fare con quello della PS4 quello trasparente in questo caso io utilizzo quelli trasparenti sono comodissimi infatti non vedo l'ora che mi arrivino quelli trasparenti pure per la 360 sono veramente ottimi perché il materiale di cui sono fatti è diciamo a molto grip cioè a molta aderenza quindi il vostro dito scivolerà pochissimo e poi specialmente quando si rovinano tac lo levate e lo ricambiate con un altro analogico in modo che così potrete avere sempre gli analogici non consumati e sempre comunque in grado di avere una massima aderenza e di non scivolare il dito mentre mirate in lunghe sessioni oltre a questo bisogna parlare anche del fatto che questo joystick non ha gli stop trigger perché non ha gli stop trigger? perché su PS4 sinceramente funzionano abbastanza male ma non è una cosa che dipende da burn pure da scoff perché i nuovi giochi hanno tutti una certa come si può dire? in tutti i nuovi giochi, ah non è proprio in tutti i nuovi giochi il controller della PS4 è particolare specialmente è particolare come si preme il grilletto quando la console registra il colpo quando voi premete un certo tot il grilletto parte il colpo con gli stop trigger su alcuni giochi questo non funziona perché praticamente quando premete il grilletto magari non spara il colpo questo può succedere ma questo perché? perché proprio è fatta così la console è proprio una scelta del joystick di farlo così quindi gli stop trigger funzionano solo su alcuni giochi come COD ma molti altri non funzionano perché se voi lo andrete a premere magari il colpo non partirà quindi il mio consiglio è di giocare con i grilletti normali o se no di comprare i push stop ma di comprare anche i grilletti normali nella burn controller io non l'ho su questo controller l'ho su quello mio ancora vi farò vedere questo è il mio controller quello con scritto power che devo mandare al ragazzo che ha vinto praticamente la cosa bella di questi grilletti come vedete è che sono rimovibili cioè li potete cambiare e potete cambiare questi grilletti questo qui è uno normale non è col trigger stop ma potete cambiarlo con uno col trigger stop e ora vi farò vedere ecco qui con i trigger stop e ora vi farò vedere come funziona speriamo che metta a fuoco praticamente come vedete la corsa del joystick è bloccata da questo pirulino qui e voi potete tranquillamente rimuoverlo se non vi piace e cambiare con un altro grilletto normale come in questo caso e il pad tornerà a essere come un pad normale come vedete si schiaccia fino a giù peccato che non mette a fuoco ragazzi sto cercando di farglielo mettere ma pare impossibile come vedete e ritornerà ad essere un pad normale tutto questo si chiama tecnologia push stop sempre della barn attualmente non è stata levata diciamo dalla vendita ma verrà messa di nuovo a breve quindi io vi consiglio di mandare una mail per chiedere informazioni questo qui è quello con il push stop e potete vedere il pirulino che blocca la corsa del joystick questo pad diciamo io amo tutta la tecnologia della barn perché è proprio studiata nei minimi dettagli per dare al giocatore quello che lui vuole quello che lui desidera ma ora passiamo alla parte quella diciamo fondamentale di questo pad beh la parte fondamentale come la sapete tutti sono questi sono le ali da pipistrello del barn i reflex switch praticamente non so se riuscite a vedere ci sono dei tastini rossi non so se si vedono stanno qui sotto che rappresentano sono collegati diciamo alla piastra elettronica e sono A a sinistra e B a destra allora cos'è il vantaggio di avere questo joystick io vi faccio vedere una cosa io gioco in claw e gioco così voi direte ma perché giochi in claw e ti serve avere una diciamo premere il il paddle con il medio della mano sinistra beh perché a volte per prima cosa magari quando si stanno facendo delle cose veloci e concatenate come saltare e slidare saltare e slidare per muoversi più velocemente cercare di fare dei movimenti veloci eccetera eccetera sono costretto a dover levare l'indice da tasti come il W per poter mirare meglio dal cerchio per slidare e così via e quindi diciamo che mi viene più difficile fare cose da multitasking specialmente in un gioco che è abbastanza veloce come questo invece così ho meno stress sulla mano destra e con la mano sinistra posso saltare tranquillamente quando voglio e come voglio basta prendere il tasto questo è un vantaggio enorme secondo me e specialmente se giocate con le dita normali così vi consente di non dover levare il pollice e andare a premere tasti come X e cerchio che sono fondamentali all'interno di Call of Duty per saltare dropshottare saltare e fare lo slide per essere più veloce eccetera eccetera in modo che così pure in salto potrete eseguire l'avversario mentre saltate con l'analogico destro perché questa è la cosa importante il fatto di poter fare tante cose contemporaneamente e mai staccare il pollice dall'analogico destro questo quindi è il mio consiglio specialmente i reflex switch sono ottimi perché guardate la forma che hanno seguono proprio il joystick ed è proprio naturale cioè guardate come sto io sul joystick questo è proprio per premerli quindi quello che vi posso dire io è sono fantastici io mi trovo veramente bene all'inizio pensavo no come al solito i paddle li odio un pochino invece ora mi sto mettendo a giocare in Poe viene chiamata Poe questa presa così viene usato un solo paddle in questo caso questo qua e mi trovo veramente bene devo dire sono veramente comodi perché primo non danno fastidio la posizione in cui sono messi cioè c'è veramente una cura del dettaglio e comunque dell'ergonomia del pad che io non me l'aspettavo quindi io vi invito se dovete prendere un pad a prendere i propri reflex switch perché sono incredibili ora li faranno pure di diversi colori eccetera eccetera oltre a questo c'è un'altra cosa da dire del pad che per prima cosa io ci ho fatto togliere la vibrazione quindi pesa molto di meno è più leggero mi trovo benissimo a tenerlo così e oltre a questo le ultime due cose voglio dirvi sul sito della bar controller voi potrete fare comunque una garanzia sul joystick potete prendere un case protettivo e oltre a questo potrete inserire il codice power basta che scrivete power con il 3 al posto dell'e com'è il mio nome la mia PSN il mio gamertag tutto quello che sapete power con il 3 e potete avere un 5% di sconto non è tanto 5% di sconto ma almeno vi pagherà le spedizioni e potrete avere un piccolo sconto sulle spedizioni avere il vostro pacco subito a casa in poco tempo perché 10-20 giorni più o meno il tempo di preparazione eppure di quanto chiedete un joystick perché come sapete la bar controller i joystick che ha diciamo li deve creare alcuni ce l'ha già pronti magari in magazzino o che comunque sono come la vostra richiesta quindi ci mettono poco altri li devono proprio proprio creare devono fare le vernici devono fare i loghi magari voi volete aggiungerci il vostro logo volete aggiungerci la vostra gamertag bene potete farlo tranquillamente come vedete questo qui è un'edizione speciale questo mio di power ma ci sta anche un'opzione per aggiungere il vostro logo la vostra gamertag una scritta e quello che volete io spero vi sia piaciuto questo video butches torniamo alla visuale su power io spero vi sia piaciuto questo video butches spero sia stato interessante che vi ho parlato dei pro e dei contro comunque di un bar controller di quello che che hanno questi pad eccetera eccetera io vi saluto sono power il vostro giocatore preferito ci becchiamo al prossimo video let's go